...e termina di scatenarsi in contropiede. Al trentaseiesimo, Cevchenko parte in velocità, si presenta in area, salta Andukar che lo mette giù. Calcio di rigore. Nella trasformazione si occupa lo stesso ucraino che non sbaglia. Due a zero e per i rossoneri a sette minuti dalla fine si può dire tutto in discesa. In qualche modo è questa la risposta alla scoffita subita in Coppa Italia su questo stesso campo.